Primo bilancio dopo appena due mesi di attività del progetto Collabora, arrivato alla terza edizione e avviato nel 2016 da Comune di Ravenna e Fondazione Enrico Mattei come incubatore di start-up rivolto a giovani promotori di idee innovative. Quattro gli assegnatari del bando che hanno potuto utilizzare un edificio comunale in disuso in Darsena e guadagnare l'accesso alle risorse e ai servizi messi a disposizione in modalità gratuita per 12 mesi. Energia, nautica, cultura, turismo, anche turismo slow, quindi veramente diciamo quattro progetti molto molto innovativi e che cercano di tenere insieme il talento, il genio di tantissime ragazze e ragazze che sono venute a Ravenna per studiare o che sono ravennati con un po' di risorse, una struttura, un luogo fisico, un pool, un team di consulenti che siano in grado di accompagnarli nella loro crescita. Siamo, è da molti c'è Sonia Spinello, la nostra attività prevede la conservazione preventiva dei beni artistici privati mettendo appunto un protocollo di conservazione all'interno delle istituzioni private o delle case dei privati direttamente. La start-up che presento è DPA Nautical Wind Turbine e presenta una turbina eolica ad asse verticale innovativa perché è capace di produrre energia anche con venti molto deboli quando tutte le altre turbine sul mercato non sono efficienti. Togovan è una piattaforma che si propone di mettere in condivisione e in contatto proprietari di Fulgoncini Vintage con persone che cercano esperienze uniche, autentiche a contatto con i local. Togovan è semplicemente un portale specifico per la ricerca e comparazione di viaggi organizzati. Non facciamo altro che mettere in contatto l'utente con tutti i tour operator così che l'utente in 5 secondi potrà avere direttamente quel prezzo che forse non lo sarebbe trovare neanche in settimane di ricerca.